Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G ed oggi vi spiego perché il socket AM5 e ovviamente di conseguenza i Ryzen 7000 saranno il percorso da intraprendere per quanto riguarda un futuro upgrade per i vostri processori e vi spiego anche perché Intel a questo giro in effetti prenderà un po' di schiaffi. Inoltre vi farò partecipi di qualche piccolo aggiornamento che ci sarà sul canale nelle prossime settimane e ve lo metto così sparso ogni tanto nel video così almeno potete non annoiarvi per queste comunicazioni di servizio. Innanzitutto vi chiedo scusa ma la settimana scorsa sono risultato positivo al covid quindi fondamentalmente ho ceduto anche io al malware mondiale e quindi non ci sono stati contenuti, perdonatemi. Il socket AM5 è il primo socket LGA per quanto riguarda la piattaforma Ryzen e promette di essere davvero una bomba. AMD sta già parlando di portare avanti questo socket per svariati anni e se il tutto dovesse funzionare come il socket AM4 possiamo aspettarci ben 4-5 anni di utilizzo di questo socket alle sue massime possibilità. Per farvi capire al giorno d'oggi potete tranquillamente mettere un Ryzen 5800X 3D che è l'ultimo processore di casa AMD che ha anche la 3DV cache ma di quello ne parleremo dopo su una scheda madre A320, B350 o X370 che sono le prime serie di schede madri rispettivamente fascia bassa, fascia media e fascia alta che AMD ha cacciato con i Ryzen. Potete fare una cosa così con un processore Intel? Fondamentalmente no. Questo comporta delle limitazioni? Sicuramente. Dato che Intel cambia il layout dei pin del proprio socket ogni due generazioni quando va bene c'è un'ottimizzazione fondamentalmente migliore per alcune cose. Infatti una scheda madre per esempio X370 quindi della prima generazione di Ryzen non avrà magari un comparto VRM e non avrà tutte le ultime tecnologie che sono presenti sulle X570 ma questo non significa che la vostra scelta debba essere inficiata da questa feature. Fondamentalmente tra una generazione e l'altra di schede madri ci sono delle migliorie sicuramente ma non sono migliorie così grandi come ad esempio la compatibilità di processore da farvi desistere dall'acquisto quindi il supporto per molti anni da parte di AMD sulla M5 sarà qualcosa che secondo me dovreste assolutamente tenere in considerazione per la scelta della vostra prossima CPU. Piccolo aggiornamento del canale. Vedete questo setup doppio PC? Questo setup doppio PC rimarrà tale. Ci saranno sempre due PC, uno principale da gaming per testing eccetera eccetera ed uno da streaming. Però saranno divisi in due case distinti e separati. E dopo vi do il prossimo aggiornamento molto interessante perché riguarda una collaborazione come ho scritto in un post su YouTube con un'azienda decisamente importante. Come AMD ci ha già dimostrato al Computex i Ryzen 7000 o almeno il top di gamma riuscirà tranquillamente ad andare a 5.5 GHz come frequenza di boost. Fermi, 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 fermi. Lo abbiamo sempre detto, una semplice frequenza non significa necessariamente che un'architettura sia migliore dell'altra. Basti guardare l'i9 9900K o l'i7 8700K che arrivano a 4.8 5 GHz tirati come a che e invece il Ryzen 7 5800X 3D che è a 4.6 GHz se li mangia praticamente tutte e due in ogni task. Però, però, il fatto che adesso i Ryzen arrivino ufficialmente al di sopra dei 5 GHz è un ottimo selling point secondo me. Intel per anni si è vantata del fatto di avere processori che arrivassero sopra i 5 GHz processori che fossero ottimi per il gaming ma adesso anche AMD ha questa feature e oltretutto anche i Ryzen 5000 riescono ad arrivare tranquillamente sopra i 5 GHz ovviamente non in maniera ufficiale, solo se raffreddati adeguatamente, ma ci arrivano. Se poi pensiamo che probabilmente ci saranno diverse varianti di processori con magari cache 3D verticale che avranno forse una frequenza un po' più bassa di 5.5 GHz ma anche 5.3 GHz mi sta bene se c'è la cache 3D verticale e magari varianti che non hanno la cache verticale e che forse riescono ad arrivare a 5.6 e con overclock come si vocifera sull'internet a 5.8 GHz su alcuni core beh, porca miseria, si riuscirà davvero a spremere un bel po' di prestazioni da questi Ryzen 7000. Oltretutto, Intel si è sempre vantata dei 5 e oltre GHz sui processori ma non ha mai detto che i consumi sarebbero stati, e mi sto trattenendo, decisamente gargantueschi perché 5 GHz su tutti i core, su un 12900K si traducono in oltre 300W di consumo mentre sappiamo che AMD, se lanciamo un 5950X alla massima frequenza possibile riuscirà massimo a raggiungere 250-260W che sono sempre tanti, per l'amor di Dio, ma sono sempre di meno rispetto alla controparte considerando che la litografia dei Ryzen 7000 sarà più bassa rispetto ai Ryzen 5000 e agli Intel di dodicesima e tredicesima generazione perché sappiamo che rimarranno sempre con l'Intel 7 Node che è un processo produttivo a 10 nanometri sono convinto che i consumi saranno decisamente più bassi anche con frequenze più alte quindi GG il secondo aggiornamento figo del canale è che praticamente sono stato contattato da BeQuiet raga, non l'azienda Peppino, ciccio Peppino del paesello BeQuiet, che mi ha detto oh, tu, ma che ne dici? ti va se ti mandiamo qualcosina e ci fai una build? hai bisogno di qualcosa? ho detto, beh, veramente un PC tutto BeQuiet sarebbe carino da vedere quindi, sì, sì nei prossimi giorni vedrete dei contenuti molto molto fighi e soprattutto molto silenziosi tutti i Ryzen 7000 saranno dotati di chip grafico integrato questo in passato è stato un enorme fattore che andava a pesare sulla scelta di AMD o Intel perché sappiamo che con lo shortage di semiconduttori e di conseguenza un prezzo altissimo delle schede video un chip grafico integrato che vi permettesse in effetti di accendere il PC e magari giocare a qualcosina era qualcosa di molto molto utile adesso a quanto pare Intel non avrà più questo vantaggio su AMD e si vocifera già che le APU quindi i processori di AMD che hanno un chip grafico bello potente integrato stiamo parlando per esempio del 7700G si vocifera già sull'internet che comunque avrà delle prestazioni grafiche simili a quelle di una 3060 mobile ciò significa che voi con un 7700M potreste tranquillamente giocare attenzione in Full HD con dei dettagli decenti e un framerate decente fermo restando che una GPU dedicata sia sempre meglio di un APU vedendo che praticamente le RTX 4000 dovrebbero consumare fino a 500W di potenza e di queste RX 7000 sappiamo in effetti ancora poco beh potrebbe essere un'ottima scelta per chi voglia creare un PC da gioco senza troppe pretese o comunque PC per il media entertainment ad esempio ve lo mettete in salotto ci guardate che ne so servizi di streaming YouTube queste cosine qua ultimo aggiornamento nel canale sto cercando di dividere la programmazione tra YouTube e Twitch vorrei che YouTube fosse una piattaforma molto più professionale che possa essere una vetrina in cui essere visto sapete da comunque aziende collaboratori eccetera eccetera Twitch invece vorrei che fosse più un sito o comunque un'esperienza un incontro tra me e voi in cui ce la sceliamo giochiamo passiamo due ore in allegria anche perché sì ci saranno comunque live a tema tech ma impostare un contenuto tech su Twitch in cui purtroppo ci sono degli imprevisti è decisamente più complicato è molto più stressante e sinceramente parlando diventa noioso dopo un po' perché più che fare test non ho lo spazio per farvi vedere magari l'assemblaggio di qualcosa o meglio ho lo spazio ma non ho la strumentazione adatta per i miei standard quindi sappiate che da questa settimana credo in poi su Twitch vedrete molto più gaming molto più chilling e ogni tanto comunque vedrete qualcosina di tech grazie della comprensione ecco a voi poi secondo me un punto che sarà decisamente vincente per quanto riguarda scegliere tra AMD o Intel questa stagione per quanto riguarda i processori la piattaforma AMD sarà decisamente più mi viene da dire in inglese conscious riguardo il prezzo in quanto sono state fatte comunque un pochettino di considerazione a riguardo sì è vero il socket AM5 userà solamente RAM DDR5 che sappiamo costano di più delle DDR4 ma dato che questa comincia ad essere la prima piattaforma nativa a supportare soltanto le DDR5 quindi senza una controparte DDR4 pensate che uno l'ottimizzazione verso questo tipo di memoria è migliore due i prezzi delle DDR4 in questo periodo sono un pochettino diminuiti quindi è un ottimo momento per acquistare un po' di memoria DDR5 detto DDR4 prima ne devo DDR5 ovviamente e magari fare scorta di buone memorie perché ne stanno uscendo alcune davvero ottime con delle latenze più basse rispetto all'inizio ecco pensate poi che i Ryzen 7000 non avranno bisogno di un nuovo dissipatore per farvi capire questo Dark Rock Pro 4 di Be Quiet che ormai è uscito 4 anni fa è un dissipatore vecchio sì ma ha un TDP di 250W è completamente compatibile con i Ryzen 7000 e sappiamo benissimo che un dissipatore ad aria virtualmente dura in eterno invece un dissipatore a liquido dopo un po' o lo dovete buttare perché il liquido è evaporato o dovete aprirlo per rifillarlo e quello è un pochettino una rottura di scatole quindi andrete a risparmiare dei soldi con dei dissipatori ad aria che sono già completamente compatibili con i Ryzen 7000 sebbene la forma dell'IHS sia leggermente diversa rispetto a quella dei Ryzen 5000 fino a poco tempo fa si vociferava di soli 3 chipset per quanto riguarda i Ryzen 7000 ma in realtà a quanto pare sono 5 partendo dal più basso avremo la 620 per magari una fascia bassa di utilizzatori di Ryzen 7000 proprio sapete che ne so un Ryzen 3 ad esempio che nella serie 5000 non c'è stato non tutti vogliono spendere molti soldi per un processore e qualcosa di fascia bassa comunque avrebbe portato un po' più di pubblico ad AMD ma vabbè sono scelte di marketing noi non sappiamo e comunque è una scheda madre a 620 dovrebbe costare al di sotto dei 100 euro viste le ultime indiscrezioni di Moors Lois Dead ci saranno poi schede madri con chipset B650 che costeranno circa tra i 150 e i 230 dollari che secondo me è il chipset che comincia a essere più interessante perché sappiamo che avrà delle connessioni PCI Express 5.0 che permetteranno comunque sapete uno storage più veloce eccetera eccetera ci sarà poi il B650e che costerà un pochettino di più e sinceramente non ho idea di cosa posso offrire di più rispetto al B650 normale forse qualche connessione più veloce più forte sapete queste cosucce qua e andremo poi con i chipset top di gamma l'X670 con schede madri che costeranno circa 270-350 euro e l'X670E con schede madri che andranno al di sopra dei 300 euro di base qui stiamo parlando praticamente di fascia enthusiast personalmente io acquisterei una X670 con un prezzo intorno ai 300-350 euro non andrei sulle X670 di fascia bassa se si può considerare una X670 di fascia bassa per il semplice fatto che più si alza il prezzo migliore è dal punto di vista fisico la dotazione di una scheda madre quindi VRM migliori magari un occhio di riguardo per quanto riguarda il BIOS e significa che se il socket AM5 sarà compatibile con Ryzen 7000 8000 9000 e 10000 magari se voi prendete una scheda madre di fascia alta adesso quindi una scheda madre top di gamma X670E sono certo che tra qualche anno non avrete alcun problema a supportare un Ryzen 9 di ultima generazione questo perché? perché che la litografia va a diminuire quindi il consumo energetico del processore va a diminuire potenzialmente il calore va a diminuire e quindi una scheda madre buona di adesso ve la portate avanti per un tot di tempo ed ecco questa la ragione per cui secondo me uno dovrebbe propendere verso i Ryzen 7000 che alla fine è la stessa ragione per cui uno ha proteso verso i Ryzen nella prima generazione è il valore nel tempo perché come ho detto se io prendo una scheda madre B350 quindi di 4 barra 5 anni fa un Ryzen 7 5800X 3D che è uscito un mese e mezzo fa due mesi fa ci va ancora bene e riesce ad erogare tranquillamente tutte le prestazioni che ci si aspetterebbe da un chip come questo raga queste sono le mie opinioni chiamatemi fan non fanboy perché questo è stato un video molto molto ponderato sinceramente parlando con i vari rumor che vedono Intel cambiare socket di nuovo con la serie 14 a me viene soltanto da ridere perché AMD ci sta dimostrando ancora una volta che probabilmente se uno si pianifica le cose prima riesce tranquillamente a supportare il proprio progetto per molti anni cosa che Intel purtroppo per loro essendo stati a capo delle prestazioni per molti anni a quanto pare non hanno fatto e quindi si sono taggiati un pochettino sugli allori queste sono le notizie che girano al momento sull'internet può darsi che in autunno quando saranno annunciati in effetti i Ryzen 7000 tutto questo che ho detto si sarà rivelata fuffa si sarà rivelata semplicemente un non lo so una fandonia quindi poi farò la figura dello stupido ma ehi queste notizie sono decisamente molto molto interessanti e sono convinto che alcune di queste cose dovreste in effetti tenerle in considerazione mi raccomando fatemi sapere una vostra voi propendete di più verso Intel 1213 o Ryzen 7000 conoscete già la mia risposta io provendo verso Ryzen 7000 per tutto quello che ci sta promettendo tutto quello che sta facendo vedere in questi giorni quindi non c'è chi dire mi sembra semplicemente la piattaforma più appetibile fatemi sapere la vostra mi raccomando ci vediamo in un prossimo video con qualche aggiornamento molto molto carino preparatevi a vedere grandi cambiamenti per quanto riguarda il mio setup alla prossima ciao ciao belli